Ehi, 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 buonanotte. tutti aiaaa come ho usato farei meglio oddio sto laggando cioè non riesco a muovere il mio ok mi sa che sono bloccato aspetta aaaah finalmente sono libero siiii fottuti bug perchè cosa che cazzo shit crowbar unlocked siiii crowbar acqua gira l'acqua gira l'acqua muoviti oddio sinistra sinistra exit madonna lagga exit exit no perchè lagga aiuto exit no il gioco che cazzo no exit no non 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 ap internazione spazio si blocca porca torna allora 20 alla porta 26 oh si è aperta oh hello oh yes armor battery vai entro ok cosa era vivo oh ah 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 request che ti impasse bastard ah mio povero telefono ah si senti stavo parlando si aiuto aiuto sto laggando ah la porta si cos'era no cazzo ok andrea giochiamolo come va giocato senza armi ovvero pugni allora prendiamo la pistola cazzo perché si blocca bocca troia dove sei ecco si un ascensore no 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 di quello se non la ore vero cazzo che faccio mezzo metro sito e sito di ok 4 stupida macina ma non capisco un cazzo hai ucciso, hai morto un civile oddio sangue c'è una porta semi aperta vieni a vedere che brutto no, era già morto cazzo, cazzo una cosa guarda, una cosa è uscita qui, guarda si vede, guarda, è uscita da qui è entrata qui volando ah ok ok allora, bussiamo dove, eccoti vai strano, eh vaffanculo stavo dicendo non si è bloccato, si è bloccato cazzo cazzo ecco fatto ecco fatto exit 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 tranquillo crowbar ah, si è bloccato cazzo dio, eh, perchè c'ho tanto di vita ah, non ci vedo ah, non ci vedo ah, non ci vedo ne è apparsa in faccia eh aspetta aspetta si è bloccato stupida connessione oddio perché c'è sto tizio in pallale odio percetà ahhh yeah that's right b***h oh wow chi va avanti ok, lo prendo per un 2 Fogne, wow oh s**t ah 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 ah, ti bello non è vero c'è un fuso di più hand oh s**t ah 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 la faccia sua si deve andare qua id wow che non sei capace no si è bloccato da nazione ok perfetto ah che cosa che mi ha fatto male, bastardo c'è stato su checkpoint 1 si fuciera pompa si sedia no fermati ho visto l'uscita mi sono dimenticato uscita ah siamo fuori stupida condizione e qui siamo fuori siiii terminal hotel s**t s**t non ce ne ne si chiudere ah ok Stavo a vedere, non riesce a uccidere un ente, credo, vedo il gol, mi stia. No, no, no. Oh shit! Attacca, mamma mia. Apri! Cazzo! La porta! Si è chiusa! Si è chiusa la porta! Se sparo? No, non c'è niente. No, 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 si è chiusa! Dannazione! E' un bene tutto questo. Questa cosa è? Allora io vado avanti. Eh! Guarda qui! Non mi convince questa stanza. C'è l'ho io! Dannazione! Dannazione! Muori! Muori! No! Ecco! Aspetta! Si è fermato subito la connessione! Eh! Ok! Andiamo a sinistra! No! 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 Ci sto capendo nulla! No! Non ci sto capendo nulla! Voi! No! No! Il problema è che io non riesco nemmeno a muovermi! C'è! Sono fermo! Faccio... Un passo e comincio a vedere... connessione persa... e mi vedo fermo! Parca tivarie! Stupido telecom che la... la sera comincia a fa schifo! Eh! Saborso! ah se sto fermo voglio dire se l'acqua da fermo voglio dire se l'acqua da fermo mi non ti rida l'acqua da fermo schifoso ma l'altra comunque mi dice un cazzo ok oh mio dio non riesco a muovermi cazzo perchè non riesco a muovermi ok se non stava ovviamente funzionano il culo ok andrea eeeh eeeh c'ho 200 di ping oh ecco ti vai piano dove la strada cazzo cazzo ti ti vedo laggare ci sarà qualcosa aspetta non sto più laggare aspetta non sto più laggare aspetta non sto più laggare appena cos'è questo tizio ah ora che li stiamo avvicinando si ferma stupida connessione cazzo era uno sono diventati quattro cazzo guarda vedo delle cose rosse là in fondo le vedi anche tu cazzo 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 andrea oh shit questo tizio sta rialzando attacchi compulsivi no muori bff ma era già morto qui una chiave andrea qui serve una chiave andrea andrea e cazzo ehi tizio era già morto che ave stupida che ave dove sta chi ha? chi ha? come trovo? è in culo ah, ce l'ho cercato anch'io sui rubinetti ma non di quella stanza a quanto pare oddio c'è uno scritto in italiano cuore oddio dove sono? aiuto vabbè eccoti yeah fra un culo stupido l'acqua del cazzo si aspetta che sta un po' legato ok andiamo nooo aspetta ok ora il cazzo è sfondo sul muro aspetta basta oh 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 vediamo 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 oh vediamo vediamo